Bene amici, buongiorno a tutti, bentrovati sul canale. Quest'oggi voglio parlarvi di un prodotto, visto che ero alla ricerca di una presa smart che mi serviva per comandare da remoto il filtro della mia piscina. Mi sono imbattuto e ho acquistato su Amazon a circa 22 euro, grazie a un coupon del 15%, questo prodotto. Una presa smart da esterno della Refos, compatibile sia con Google Home che con Amazon Alexa. E visto che mi è appena arrivata, scopriamola insieme. Ecco qua, come vi dicevo è una presa smart comandabile da remoto sia tramite gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant e sia con l'applicazione dedicata. Quella che ho scelto io è della Refos ed è da esterno, IP44, quindi resiste agli schizzi, all'umidità, ma andiamo a scoprirlo assieme. All'interno è presente il suo manuale e c'è anche la lingua italiana. Perfetto. Installazione rapida con il QR code che vi riporta all'applicazione che ora andrò a scaricare. E semplici passaggi per inizializzarla. E la presa vera e propria. Di per sé è una semplice presa da esterno con i coperchietti, ma che è, come dicevo prima, comandabile da remoto. Ora installiamo l'applicazione e vediamo brevemente il suo funzionamento. Che di per sé è un prodotto base, che però per chi avreste bisogno di collegare, che ne so io, le luci di Natale, piuttosto che la parte elettrica di un impianto di regazione, piuttosto che, come nel mio caso, il filtro della piscina, piuttosto che le luci da esterno, o delle lampade, insomma, qualsiasi accessorio che desideriate tenere in giardino o abbiate necessità di tenere in giardino, grazie a questa presa da esterno, riuscirete tranquillamente a gestirlo da remoto. Quindi, scaricata l'applicazione e-home life, vi registrate. L'applicazione è molto intuitiva, ma comunque c'è la guida rapida per chi avesse qualche difficoltà in più. Accedete, io ora ho collegato due lucine, tanto per farvi vedere, che da remoto posso tranquillamente. Comunque l'applicazione è ben fatta, potete crearvi scenari, routine, per impostare dei timer di accensione e spegnimento dei dispositivi. Bene, in 5 minuti di orologio ho sia installato e configurato la mia presa smart, che ho attivato la skill di Alexa. Ora proviamo a vedere se funziona tutto correttamente. Alexa, accendi switch 1. Ok. Alexa, accendi switch 2. Ok. Alexa, spegni smart outdoor plug. Ok. Perfetto. Ora ho utilizzato i nomi preimpostati che mi dava la skill di Alexa, non so se si possono cambiare. Comunque si può usare indipendentemente lo switch 1 per accenderlo e spegnerlo, lo switch 2 per accenderlo e spegnerlo e la presa in toto, switch 1 più switch 2 per accendere e spegnere contemporaneamente ciò che avete collegato alle due prese. non male dai. Alexa, accendi filtro piscina. Alexa, accendi luci di Natale. Alexa, spegni prese giardino. Quindi tirando le somme dai, un prodotto per poco più di 20 euro, non male. Semplice, robusto e funzionale. Configurato in 448, due anni di garanzia, quindi primo approccio più che positivo. Come al solito, se vi è piaciuto il video, mettete un bel like, condividete, iscrivetevi al canale e un saluto dal vostro Max Review. A presto, ciao!